Buongiorno, sono Federico Ravaioli di Ammo Bitalia, siamo in Faraone SPA a collaudare due macchine di rastrematura. Le macchine sono utilizzate per rastremare il trabattello in alluminio. Una macchina rastrema e fora il piede del trabattello. L'altra macchina rastrema e fora la testa del trabattello. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima installazione di macchine Ammov. Buona giornata a tutti.